Le ipotesi di reato configurate a carico dei proprietari di un appartamento in Via Nitti, a Canicattì, sono minaccia, lesioni personali, violazione privata e violazione di domicilio. L'episodio si è verificato nel comune in provincia di Agrigento, dove la locataria avrebbe dovuto lasciare la casa, secondo il contratto di locazione, a fine febbraio. Dallo scorso ottobre, invece, i proprietari della residenza avrebbero iniziato a minacciare gli affittuari, secondo la versione dell'accusa, perché volevano liberata la residenza. Così, dopo alcuni episodi di violenza, la locataria, una ragazza di 31 anni di Canicattì, si è rivolta alla polizia di Stato per denunciare quanto accaduto. La proprietaria dell'appartamento, secondo l'accusa, sarebbe entrata nella residenza data in affitto e avrebbe iniziato a spintonare la 31enne, facendola cadere. Inoltre, la proprietaria della casa, dopo averla lanciato contro un tavolino, avrebbe tentato di scagliare contro di lei anche la televisione. Da quel momento in poi, secondo la denuncia, la proprietaria dell'appartamento avrebbe iniziato a insultare quotidianamente la famiglia della 31enne, con minacce di morte e anche con frasi via WhatsApp. Così, in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto di locazione, la famiglia ha lasciato la residenza di via Nitti. La ragazza di 31 anni, però, ha deciso di raccontare tutto alla polizia e denunciare la proprietaria dell'appartamento. Grazie.